Quella del PNRR è una sfida e al contempo un'opportunità che investe da vicino anche il mondo della sanità. In provincia di Belluno differenti sono le azioni intraprese dall'azienda sanitaria locale per accrescere le potenzialità della sanità di montagna. Noi abbiamo un piano di investimenti in particolare legato al piano nazionale di ripresa e resilienza che totalizza circa 24 milioni di euro. Sono 24 milioni che sono destinati in particolare alle case di comunità, agli ospedali di comunità, alla centrale operativa territoriale, alla rete dell'emergenza e dell'urgenza e alla tecnologia. Azioni tese a migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e dal contempo per attrarre nuovi professionisti. Vogliamo dare appunto a chi lavora nel nostro territorio, a chi già lavora e chi vorrebbe venire a lavorare, tutta la tecnologia possibile e di livello elevato da una parte e dall'altra sviluppare anche quei percorsi di accoglienza che sono importanti per far sentire la persona che arriva da fuori, da fuori provincia, accolta e soprattutto sostenuta nel percorso di lavoro che viene a fare da noi.